Una quattro giorni di lavori, con quasi 4.800 iscritti, per parlare di vista e di come difenderla. A Roma entra nel vivo il 99esimo congresso nazionale della SOI, la società oftalmologica italiana, che rappresenta i 7.000 oculisti italiani. L'appuntamento, iniziato ieri e che si concluderà sabato 23 novembre, ha visto oggi il clou nel simposio di fondazione per la vista Onlus, Per vedere, fatti vedere, istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani e Fondazione Treccani Cultura su riflessioni etiche, cliniche e organizzative a tutela del diritto di accesso alla cura da parte dei pazienti affetti da maculopatie. Tra i relatori, anche il direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana ed ex ministro dei beni culturali, Massimo Brai, il presidente della SOI, Matteo Piovella, e il professore merito di diritto civile all'Università La Sapienza di Roma, Guido Alpa. Il compito primario dello Stato è garantire la felicità e il benessere ai suoi cittadini e l'Italia ha avuto una grandissima visione nella scelta di svolgere la sanità pubblica, non perdendo mai di vista il ruolo della prevenzione, ha detto Brai, che ha svolto un'analisi retrospettiva sulla cultura italiana del diritto alla salute e dell'accesso alle cure. La rivoluzione nel sistema sanitario italiano si è avuta con la Costituzione, nell'articolo 32, con la quale si è passati dalla tutela dell'individuo al valore della persona. Solo nel 1978, 30 anni dopo, con la nascita del sistema sanitario nazionale, si sono completati i principi costituzionali. Da allora, negli ultimi decenni, purtroppo si sono verificate molte criticità, perché nel tempo gli organi sanitari, USL e poi ASL, sono stati politicizzati e soprattutto si è svalutato il ruolo del medico a vantaggio dell'amministrazione pubblica e politica, ha aggiunto Brai. Alle ghiandole di Meibomio, alle nuove conoscenze che emergono sulle caratteristiche del loro secreto e alle ripercussioni per la salute oculare del loro malfunzionamento, è stata dedicata alla relazione ufficiale del Congresso, con focus sulle ripercussioni sulla chirurgia oculare e sulla prevenzione. Domani, venerdì 22 novembre, sarà la giornata dedicata alla chirurgia in diretta, quest'anno particolarmente efficace, con 40 interventi previsti.